Assessore, si parla tanto di un Abruzzo vicino alla zona arancione, cosa c'è di vero in tutto questo? Noi abbiamo avuto nelle ultime due settimane un aumento dei ricoveri sia in area medica che nell'area delle terapie intensive. Questo aumento oggi però non ancora supera quella che è la soglia, quella che è la percentuale nazionale. Nella nostra regione abbiamo un'occupazione o meglio ancora una saturazione dei posti letto al 19% e la soglia è al 20% per quanto riguarda le terapie intensive. Invece per quanto riguarda l'area medica abbiamo un'occupazione al 26% e la soglia è al 30%. Quindi diciamo siamo vicini a quel limite che potrebbe poi portare al cambiamento cosiddetto di colore e quindi entrare in una zona. Ma ad oggi non c'è alcun rischio in questo passaggio, per questo passaggio. Io mi auguro che a più presto si possa andare anche verso una discesa diciamo di questa punta così elevata. È importante però vaccinarsi. La vaccinazione come abbiamo sempre detto è l'unico strumento che abbiamo per ridurre questi contagio. E devo dire che nella nostra regione c'è una grande risposta. Nelle ultime settimane c'è stato un aumento di richieste sia come prima dose che soprattutto quelli che devono completare la terza dose. E proprio per questo apriremo delle giornate dedicate. Daremo la possibilità oltre a coloro che si sono prenotati anche dare la possibilità a coloro che all'ultimo momento decidono così di voler avere il vaccino. Quindi avere questa possibilità di andare presso degli hub che apriremo proprio in tutta la nostra regione per dare risposte a questa esigenza.